Siamo con Marco Valentini, giocatore del Parma, categoria 2012. Oggi la finale non è andata bene, avete perso, però il percorso della squadra è stato veramente da lodare. Siete arrivati fino in fondo, avete sfiorato la vittoria del torneo, siete stati sfortunati perché siete stati fermati dal palo. Poi avete perso ai rigori. Come è andato il torneo? Ti sei divertito? Il torneo è stato molto bello, ci sono molto divertiti e hai giocato molto per me. Ok, cosa pensi che è mancato nella finale? Nella finale dobbiamo fare qualcosa di meglio, correre qualche dettaglio e basta. Va bene, l'importante comunque è divertirsi, ancora congratulazioni a te e a tutta la squadra per il percorso durante tutto questo torneo. È mancato poco, la prossima volta sarete più fortunati. Grazie.